Salve ragazzi, benvenuti sul mio canale, oggi 7 ottobre, ore 17 e 44 minuti, vi voglio fare due risate con il Batman fiorito, logicamente è un mio appello alla calma ragazzi, perché lo rivedremo libero presto, anche perché come avvocato c'è la taormina e io sono fortemente preoccupato per lui e vi spiego anche la motivazione. Ragazzi, inutile che andiamo a ricercare le 14 case, il SUV, la CIP per la neve, la Smart per mancheggiare più facilmente, anche se ho dubbi che i 150 kg riuscivano a starsi per la Smart, quindi non lo so perché l'ha comprata, forse è giusto per avere un oggetto in più, non lo so. Dopo, logico, tutte queste robe intestate al partito, sai com'è? Normale che dopo lui gli ha detto, vabbè, ma con c'è famo? E lui ha detto, lui c'era questo problema, vabbè, me l'intesto io, logicamente. Taormina dice, lui comunque non ha problemi, cioè voglio dire, è della famiglia facoltosa molto ricca, però logicamente quando doveva andare a Portocervo, chiedeva a Boschi, il segretario del partito che era suo cugino, gli chiedeva, guarda, ce l'ho andato a Portocervo, ma è che posso usare il bancomat del partito? Sai, quindi la banca non so se gli avrebbe dato i soldi, magari, anche se era facoltoso, magari, sai, con la crisi economica che c'è, magari gli facevano delle cose. E poi sta gente qua dei quartieri romani diceva, sì, ci invitava a cena una volta all'anno, ci metteva 100 euro sotto al piatto, sai, noi li prendevamo, ho capito, ma com'è? Una brava persona distribuiva buoni della benzina, cioè, capito? Quindi c'è anche da valutare che comunque sia lui più ridistribuiva il popolo, un po' come Robin Hood, cioè questo è una persona che, anzi, bisogna fare una causa per il fatto che lo tengono in galera, anche perché poi lui nella politica ci credeva, come dice Tormina, adesso si è fortemente malato con il diabete, lui rischia un collasso, hai capito, avete l'insulina, perché lui non ci mette lo stress del partito, l'ha resa merendine e Coca-Cola, adesso il calcio si è tolto anche le merendine, lui mai con l'alimentazione lì, con la cattiva alimentazione a causa del partito. Quindi ragazzi, adesso qui Tormina c'è anche da difenderlo, perché oltre che non può stancarsi che soffre il diabete e che è pauroso, più il danno che ha il diabete gli è venuto fuori con le attività politiche, perché non ha potuto stare in famiglia, mangiare tranquillo il primo, il secondo e avere un'alimentazione sana. Quindi adesso o facciamo a causa della Coca-Cola e le merendine della Bauli, della Barilla, oppure qui facciamo a causa al partito o lo Stato che l'ha reso adesso una persona che non sta bene di salute. Quindi ragazzi, vediamo dov'è il problema e il succo. Fiorito alla fine, i radicali, le storace e quegli scemi dei verdi non gli votavano mai a favore le robe che facevano, tutti gli altri votavano tutti a favore, tutti guadagnavano 450 mila Euro, ma ragazzi che vuoi che sia 450 mila Euro? In fondo sono capogruppo, consigliere regionale, della regione, della Lazio, poi voglio dire, dato ispirazione a tutte le altre regioni, noi abbiamo esportato in tutte le regioni d'Italia un nuovo modus operandi di come fare politica e stare bene, poi viene in tutte le famiglie facoltose naturalmente, quindi ha maggior ragione, quindi voglio dire sappiamo quello che è la nostra ricchezza, ma usiamo quella degli altri, è più sana e più tranquillo che non perdiamo il nostro capitale messo da una parte. Taormina per me lo sta difendendo a costo zero e ha detto che lui andrebbe anche in carcere per stargli vicino, perché gli vuole talmente bene che lui tutte queste cause un attimino un po' problematiche da difendere, lui se le prende tutte, naturalmente io ho solidarietà e stima per Taormina, vorrei essere anch'io un aiutante a Taormina nella causa e gli direi un spunto di tirare fuori anche una causa contro lo Stato per il suo diabete che non può stare incompatibile con il carcere e in più il diabete si è maturato nella sua professione lavorativa, che era quella del politico e della regione larga. Quindi ragazzi prendiamo spunto, abbracciamoci con amore, vogliamo gli viene affiorito perché ha dato tante belle idee da professare in giro ragazzi, raccogliete quello che ha detto perché raccogliete un esempio, ragazzi ci vediamo, oggi siamo a Montignano, cercatelo su Google Maps e se poi vedete l'aspromonte, non lo so se ci va nel metro cubo, gli faremo due metri cubo e poi logicamente lo lasciamo lì, poi c'è il diabete, il problema, quindi il pane non so se lo può mangiare, il diabete non va bene il pane, quindi lì bisognerebbe un attimino studiare l'alimentazione, anziché il pane, non so, faremo fece, urine, che tanto è tutta roba sua, poi se non caga e non pisce perché non pia altro, pazienza, non è una pianta sana, non è che ci possiamo problemizzare la vita degli altri, lui non si è problemizzato della sua vita, anzi, tutt'altro, ci vediamo ragazzi, Montignano è bellissima!